Allora, avevo detto che a 6 dischi di platino mi rasavo a zero Adesso vi chiedo, non è che posso barattare per caso il rasarmi a zero a 6 dischi di platino con tipo meli coloro, tipo azzurro, qualche cagata del genere, vi prego Mi faccio cagare il rasato a zero Dico, se senza pagare fa gli stessi platini di Vorrego non posso, che non so neanche 5, sono 6, mi raso a zero Ve lo giuro, tanto lo dico perché so che non farò mai 6 platini, però in caso facesse 6 platini mi raso a zero Oh mio dio Noto che l'economia del rap italiano in questo momento è alimentata da questi canali che ricaricano le Instagram stories dei rapper cercando di mettere i titoli accattivanti No, io non insulto nessun rapper facendo frecciatine velate, se devo farlo lo faccio senza troppi giri di parole, senza voli pindarici Tra l'altro non attribuite a me la volontà di voler litigare con altri rapper per farmi la promo Perché vi posso stare sul cazzo quanto volete ma è pacifico che i miei dischi, i miei concerti sono sempre andati bene, non ho mai avuto bisogno di questi stratagemmi Quindi mollatemi da sta merda Io mi sono sempre ritrovato a rispondere a delle provocazioni, perché sono un essere umano anch'io e io ci rimango male quando vedo degli artisti con cui ho vissuto una parte della mia vita che mi hanno spinto Con cui ho lavorato quando avevo 18 anni, insultarmi in maniera pretestuosa senza motivo, ci rimango di merda e mi incazzo pure io, tutto qua Trovo onestamente assurdo vedere che ci sono dei video con instagram stories di rapper che hanno più visualizzazioni dei loro singoli E non è colpa dei rapper, è colpa del fruttore medio perché voi volete questo Quindi voi vi meritate la novella 2000 del rap, ma poi non mi rompete il cazzo con Tupac E comunque non voglio assolutamente definirmi rapper, non mi interessa questo, non è una mia urgenza Non mi piace vedere la musica in compartimenti stagni, però vengo da quel mondo L'ho fatto la gavetta vera, vengo dai centri sociali dove mi pagavano con una birra calda Quindi rivendico solo l'appartenenza da dove arrivo, tutto qua Allora, cari amici del rap italiano, adesso vi parlo di guepechegno Così fate un po' di visualizzazioni sui vostri canali di merda dove caricate le instagram stories, no? Io e Cosimo abbiamo i nostri trascorsi, però è una persona con cui ho condiviso una parte di vita molto bella e a cui ho voluto molto bene Sapete, il pubblico sancisce i picchi più alti della carriera di un artista E a me è quello che ha sempre fatto ridere del circolino elitario del rap italiano Che si riempie la bocca di tanta cultura, di Tupac e di sticazzi Che poi fa raggiungere il picco più alto di celebrità della carriera di guepechegno Che ha fatto la storia del rap italiano con una sega, no? Questo vuol dire che voi, ascoltatori, fruttori medi del rap italiano Che vi credete tanto diversi dalla massa Non siete diversi dalla massa perché voi volete i pettegolezzi, volete le seghe, non volete la musica Semplicemente voi siete la parte presuntuosa della massa, non siete diversi dagli altri E praticamente poi tutto questo mio discorso verrà ricaricato su YouTube, magari tagliuzzato Con un titolo accattivante tipo Fedez parla di guepechegno Farò un botto di visualizzazioni E basta, farete tutto tranne che parlare di musica Perché questi sono gli ascoltatori della scena rap italiana Tutto questo per dire che io non ho problemi con nessuno Tanti hanno problemi con me Non me ne frega niente Se vi piace bene, se non vi piace bene Tutto qua, peace and love Grazie